Qual è il filo conduttore di queste poesie? Il filo conduttore delle poesie è l'emozione, le emozioni che nascono dalla sofferenza delle persone, degli ultimi e dei dimenticati. Il filo conduttore è proprio questo, la prima poesia che si trova nel libro è Servitù di passaggio nel canale di Sicilia, nasce appunto da uno dei naufragi più terribili che sono avvenuti in quel tratto di mare, quattro anni fa. Quindi è una poesia che dal punto di vista temporale è datata, dal punto di vista purtroppo invece ha una sua attualità. Quanti sono le poesie contenute? Le poesie sono 50, 50 poesie. Il libro è corredato anche da alcune immagini, di chi sono? Le immagini sono di un'illustratrice di Chiavari, Paolo Giovagnoli, che ringrazio. Diciamo che lei ha di alcune poesie individuato un'immagine che la potesse rappresentare. La presentazione del libro E sempre camminiamo avverrà in un modo un po' particolare, come? Abbiamo un po' teatralizzato la lettura. Ci sarà anche un sottofondo musicale dato dal nostro coro Anime Motus e accompagnati anche dai musicisti Federico Capra e Leonardo Behe. Sì, ci sarà una lettura recitata appunto, anche perché per rendere ancora di più quello che è il pensiero del poeta De Lucchi. E quindi farlo arrivare molto più velocemente nei cuori delle persone che assisteranno. Amo di più chiamarlo una lettura recitata.